Il Consiglio Comunale, presieduto da Raimundo Pasquino, si è riunito nella sede di Via Verdi per la seduta dedicata alla manovra di assestamento di bilancio. Dopo lo svolgimento del Question Time, i lavori dell'Aula sono cominciati con la commemorazione da parte del Vice Presidente del Consiglio Elena Coccia, Di Lucio Magri, giornalista e fondatore del Manifesto, scomparso a 79 anni. Terminati gli interventi ai sensi dell'articolo 37, il Sindaco Luigi De Magistris ha chiarito che per il bilancio di previsione del 2012 sarà necessario un impegno che deve essere preceduto con congruo anticipo da un lavoro sinergico con capigruppo, partiti e sindacati per un confronto ed un aiuto finalizzate alla costruzione del miglior bilancio possibile con le poche risorse disponibili. Dalle riunioni dei giorni scorsi della commissione bilancio presieduta dal Pidio Capasso, con l'assessore Re Alfonso e il Collegio dei Revisori, è emerso che grazie alla manovra correttiva di oltre 55 milioni di euro non si sforerà il patto di stabilità. Nella sua relazione, l'assessore Re Alfonso ha sottolineato che i risultati positivi hanno avuto il sopravvento sulle criticità e che nonostante l'operazione di contenimento della spesa, pare a circa il 10%, non è stata ridotta alla qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini. Se quindi passate alla votazione delle delibere all'ordine del giorno, quelle collegate alla manovra, 3 a firma dell'assessore D'Angelo e 2 dell'assessore Tuccillo, sono state approvate all'unanimità. Le vere e proprie delibere di assestamento proposte dall'assessore Re Alfonso sulla ricognizione dei debiti fuori bilancio fino al 31 ottobre 2011 e sull'assestamento generale di bilancio sono state approvate a maggioranza. Sempre a maggioranza è stata approvata la delibera degli assessori Donati e Re Alfonso per l'istituzione di un servizio di rilascio dei contrassegni di accesso alle ZTL. L'aula ha infine esaminato e approvato 5 ordini del giorno collegati alla manovra di assestamento e un altro per concludere le procedure per il trasferimento dei lavoratori del bacino Napoli 5 in Asia.